La ricorrenza della Santa Pasqua in Calabria ha visto prendere vita anche importanti momenti di beneficenza. Sì, perché grazie ad un progetto voluto dal Banco Alimentare e dalla Vibonese Calcio intitolato Alimentiamo la Solidarietà, in tutte le province calabresi, sono stati preparati dei pasti caldi per le persone in difficoltà, soprattutto in questo momento di ristrettezze, anche economiche, legate alla pandemia. Ci siamo recati a Copanello di Salettinele Catanzarese nel ristorante Luna Convento, che insieme ad altri ha aderito all'iniziativa. Siamo qui in occasione della Pasqua, in quanto aderendo a un progetto della Vibonese Calcio e del Banco Alimentare, abbiamo preparato dei pasti, quest'oggi circa 300 pasti, per le famiglie bisognose, soprattutto con le persone che in qualche modo hanno sentito di più le difficoltà in questo periodo di pandemia. Oggi abbiamo comunque composto un menù completo per tutti, un menù che prevede il primo, il secondo contorno, anche il dolce e delle bevande. Questo perché? Questo per far capire alla gente che veramente è stato fatto col cuore, veramente ci tenevamo a quello che è stato fatto, e quindi per poter arrivare direttamente al cuore della gente e farli sentire anche loro, che comunque oggi magari sono un po' più in difficoltà di noi, farli sentire bene, farli sentire comunque in una sorta di festa che è quella della Pasqua. Si credo che in un periodo del genere sia l'unica arma vincente, non solo per gli altri, ma anche per se stessi, per stabilire quel contatto umano che si è perso, che si sta perdendo, e quindi riuscire ad essere più vicini, soprattutto in un periodo come quello di Pasqua, che da sempre per noi ha rappresentato un motivo di vicinanza sia nelle famiglie, soprattutto tra amici e comunque per noi ristoratori ancora di più. Quindi credo che sia un'iniziativa non solo per gli altri, ma anche per se stessi, per essere più vicini. Abili e preparatissimi chef hanno preparato menù prelibati che hanno distribuito in occasione della Santa Pasqua. L'iniziativa praticamente è iniziata già l'anno scorso, quando abbiamo iniziato sulle 5 province, facendo più di 15.000 pasti. Per la prima volta siamo arrivati oggi sulla zona della costiera caranzarese, quindi siamo qua a Copanello, al ristorante appunto di Franzè. Nello stesso istante che noi siamo qua a preparare i pasti, altri nostri colleghi, perché siamo sempre presenti nelle 5 province, saranno impegnati a preparare insieme a noi 2.500 pasti, sempre per le stesse famiglie. Cerchiamo anche nel periodo di Pasqua di essere solidari con chi ha più bisogno.